Adesso parliamo di cybersicurezza al centro del dibattito pubblico, anche per via dell'inchiesta sulle violazioni di migliaia di archivi pubblici e privati. Mario Meliado ha intervistato il docente dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, Francesco Buccafurri, numero 2 dell'autorevole Cyber Security National Lab. Vediamo. 800.000 vittime di spionaggio telematico dal leader di Italia Viva Matteo Renzi al cantautore Alex Britti. Violate le banche dati ritenute più sicure, Viminale incluso. Oggi si parla molto di cybersicurezza per l'enorme eco dell'inchiesta Equalize. Quanto è a rischio lo Stato? La cyber security oggi è al top dell'agenda nazionale di molti paesi. Non possiamo dire di essere al sicuro perché il rischio informatico è sempre dietro la porta. L'Agenzia Nazionale per la Cyber Security, Baluardo Anti-Hacker, dovrebbe centrare 82 misure di contrasto entro il 2026. A che punto siamo, professore? La CN è una realtà di fondamentale importanza che ha dato una svolta notevole nel contrasto agli attacchi informatici e nella gestione in generale della sicurezza nazionale. Da alcune settimane il professor Francesco Buccafurri è il vice direttore del National Cyber Security Lab che vanta oltre 800 ricercatori e 59 doni in tutta Italia e coordina le attività accademiche in tema di sicurezza informatica. Accanto ai gravi rischi per le istituzioni ci sono quelli per le singole persone. Siamo tutti possibili oggetto di attacco informatico perché per esempio le botnet necessitano di molti computer vittima che vengono compromessi e poi c'è il ransom perché può colpire le organizzazioni ma anche i singoli cittadini. Per le banche date pubbliche chiaramente il rischio è quello delle sfiltration, si dice tecnicamente, di dati con la possibilità di alimentare il commercio illegale di dati oppure gli atti di spionaggio come abbiamo visto. Nel piano nazionale di riprese e resilienza il PNRR sono stanziati per la cyber security oltre 600 milioni di euro, una cifra importante ma sarà sufficiente in concreto? Difficile dirlo, certe volte il gap è a superare anche quello in termini di professionalità, c'è carenza di professionalità.